La serie D complice il torneo di Viareggio non scende in campo ma nella barletta calcistica a tenere banco sono gli umori della piazza e il futuro societario. In attesa della manifestazione organizzata dalla tifoseria per opporsi all'attuale gestione societaria nel pomeriggio di sabato, con partenza alle 17.30 dal parcheggio di Via D'Annunzio, alle spalle della tribuna centrale dello stadio Cosimo Puttilli, a referto ci va un'altra settimana con un nulla di fatto alla voce novità sul fronte dirigenziali. Prima delle dimissioni del direttore generale Beppe Camicia è stato infatti registrato l'allontanamento, probabilmente definitivo, tra Michele Di Benedetto in qualità di acquirente e i colori bianco-rossi. La ricezione della PEC in cui l'imprenditore metteva nero su bianco la sua volontà di rilevare il pacchetto societario e i paletti fissati dalla SD Barletta, documentazione a disposizione entro il 16 febbraio, 20 giorni per approfondire l'offerta e altri 10 per valutare la proposta vincolante, hanno spinto Di Benedetto ad alzare bandiera bianca, come spiegato dal diretto interessato in un comunicato ufficiale in cui si ricordava che la sua prima manifestazione di interesse, formalizzata a mezzo pecca a dicembre del 2023, con richiesta di scritture contabili della SD e della VSSRLS, attende ancora una risposta strada non più percorribile, la sensazione è questa, mentre sullo sfondo resta l'ex vicepresidente Francesco Di Vittorio, in silenzio da diverse settimane in merito a un suo possibile inserimento nelle trattative per la cessione del club. Avrebbe avuto dialoghi con il presidente onorario Mario Di Miccoli anche in questa settimana, e gli sarebbe stata prospettata, tra le varie ipotesi, quella di rientrare in società come direttore generale, una delle tante opzioni sul tavolo. Nel mezzo c'è il campo, con la squadra allenata da Salvatore Ciullo, che lavora in ritiro per preparare la sfida al Matera di domenica 18 febbraio, appuntamento in cui un gruppo a secco di vittorie da tre mesi e reduce dalla sconfitta senza appello di Bitonto, dovrà cercare di rialzare la testa per migliorare quel margine di vantaggio sulla retrocessione diretta, che ad oggi si è assottigliato a un solo punto.